Si terrà martedì 22 giugno a Torre del Greco nella sede del circolo nautico in via Spiaggia del fronte 40 la quarta edizione del premio Monsignor Francesco Sannino, una delle iniziative con cui la città vesuviana ricorda il sacerdote giornalista morto nel 1993. A partire dalle 18.30 sono previsti gli interventi del sindaco Giovanni Palomba e dei professori Pasquale Giustiniani, Giuseppe Palmisciano, Gaetano di Palma, incentrati sul lavoro di Monsignor Sannino come primo biografo di madre Letizia Zagari, fondatrice delle suore figlie di Nostra Signora dell'Eucaristia, congregazione che sarà presente all'incontro con il suo Maria Rosa del Vecchio. Il premio, spiega l'organizzatrice Giovanna Romano, nipote del compianto sacerdote, sarà anche l'occasione per annunciare ufficialmente la nascita di un'associazione culturale in memoria di Monsignor Sannino. L'associazione culturale intende promuovere e rilanciare l'attenzione su attività artistiche e socio-ricreative nel territorio di Torre del Greco in campo formativo, come fece per decenni sacerdote da pastore, docente e giornalista.